Un buon matrimonio deve essere creato. In un matrimonio le piccole cose sono le più grandi e non si è mai troppo vecchi per tenersi mano nella mano. E ricordarsi di dire ti amo almeno una volta al giorno. Non è mai andare a dormire arrabbiati. E mai darsi per spuntati l'un l'altro perché le attenzioni non finiscano con la luna di miele ma continuino giorno dopo giorno negli anni.